Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo episodio di Pokémon Scudo sempre con il vostro Firewolf, sempre qui su Channel V Delta Bene, ci stiamo per avventurare nella prossima miniera Ed eccoci qua Miniera 2 Iniziamo il nostro viaggio Allora Come vedete ci sono dei Pokémon che conosciamo già benissimo Andiamo avanti Uh, belli capelli Cominciamo bene Ciao Beatles Uff, ancora tu Ma non dovevamo vederci più E invece eccoci qua Eh, cosa vuoi che ti dica? Sono qui per sfidarti Poveri miei Pokémon, se dovessero lottare contro un allenatore mediocre come te In più, nemmeno io ho voglia di sprecare tempo lottando contro allenatori di secondo rango Tuttavia potrei farti il favore di annientarti in una lotta per riportarti alla realtà Se sei tanto ingegno da credere di essere al mio livello Se sei tanto ingegno da credere di essere al mio livello, sfidami pure Eh, vieni Vieni belli capelli Sì 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 dai Certo certo Il presidente rose Certo 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 Adesso muoviamoci Allora, io francamente tutti gli allenatori di questo gioco, cioè tutti i rivali che abbiamo Sono antipatici come non so cosa Belli capelli Hop Dandle Diciamo che ne avrei fatto volentieri a meno E giù Perfetto Uno in meno Ok Noi gli mandiamo Mazza all'attacco Vai Mazza Scelgo te Vabbè, se c'è tenacia allora Tanta roba Bene Bene Buttiamo giù questo Gotita Con un bel morso E giù Anche Gotita Dai, mandami pure Atena Atena Ok Abbiamo Atena Vediamo di mandagli addosso un cavaliadro zodiaco E giù Anche Atena Ok Hai qualche arma migliore Per caso visto che hai i capelli così hai per caso anche il cugino Hit Ah, c'hai un ponita Ti piacciono tutti i Pokemon con dei bei capelli fluenti come i tuoi eh Allora noi ti mandiamo un bel Rambo È arrivato Rambo Potrei soprenominarlo Rambo effettivamente perché non so se l'avete notato ma Il cerottino che aveva sul naso è diventato una fascia in testa quindi potrei anche chiamarlo Rambo Peccato che non è rossa la fascia Allora Allora Buttiamo giù Ponita E anche giù Ponita E via Ok I nostri proprio non salgono Ok vuoi dire le tue ultime volontà Ti ho lasciato vincere Guarda se mi vuoi premiare per i miei sforzi che dici di rasarti i capelli Sì Certo Accetto Dice Non ti do giù se sia appena passabile Ti si dice di più Guarda per te lo prendo come un complimento E sappi che della tua carta la butterò qui nel laghetto Per non dirti altro Ma guarda adesso Il tuo capellone Ok ragazzi Avventuriamoci in questa grotta Wow Che succede? Uh Una forma gallar ragazzi Una forma gallar Un bel stank fish Dai proviamo a catturarlo Vediamoci di Veloc ball Dai entra Uh Tosto Ha pure vendetta Bene Ok ci abbiamo riprovato E stavolta Preso Stavolta preso Ok Un elemento più in squadra Ecco qua stank fish Ok stank fish Eccolo qui E mettiamo Ok ragazzi Abbiamo preso un stank fish Era interessante Quindi ho dovuto catturarlo E andiamo avanti Ok avanziamo in questa grotta Dobbiamo stare attenti A questi pokemon Perché sono veramente Maledetti Ok ragazzi Ci siamo trovati davanti Al team Yeah Ok I due Sempre intelligenti Senti ma Tu sei una sfida A palestra Giusto? Wow che storia Tendrebbe una sfida Sì Mi andava Una bella sfida In doppio Da solo Invece no Arriva Hop Prima o poi Hop Qualcuno Ti smonterà Io sono convinto Che prima o poi Qualcuno ti smonterà Sei troppo Prima di te Vedrai che Pedalizzate Che ci faremo Quando vi avremo Stracciati Sì Sì Ovviamente Combatto anch'io Ma li stracceremo Perché appunto Ci sono anch'io Eh sì Siamo sponsorizzati Del campione Si vanta Si vanta Con chiunque Che siamo sponsorizzati Dal suo fratello Lui si vanta Delle cose degli altri Che io sono il suo rivale Il suo fratello Cioè Va bene Per lui è il migliore Su ultimi Yellow C'è un bel ritmo Allora Vediamo un pochino Si finisce Piuttosto velocemente Ok Ok Mandiamo giù L'ultimo Pokémon Di questa squadra E abbiamo battuto Il team Yeah Possiamo andare avanti Sì 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 Che iella Appunto Ok Pensa a te Questo tipo È il fratellino Del campione In effetti Si vede Il team Miele Dopo la botta Cambia rotta Via via Tu Cosa vuoi Da me Eh Chissà dove sarà Cabu È vero Noi siamo qua dentro Per cercare ovviamente Il capo palestra Di tipo Fuoco Cabu Ok ragazzi Finiamo sta grotta Vediamo Vediamo Dove ci porterà Ok Abbiamo trovato Il capo palestra Team Miel vi ringrazio Per avermi aiutato Ad allenarmi Tuttavia Il vostro comportamento È imperdonabile Non dovreste Disturbare Carcol Mentre Lavora Ma che disturbo È disturbo Noi stavamo Solo facendo Il tifo Per lui Bah Al diavolo Le sfide Quando La iella Colpisce Il team Iele Svanisce Ciao Non c'è Nulla di male Nel tifare Per qualcuno L'importante È non essere D'intralcio Cabo Sei troppo Tosto Proprio come Deve essere Il capo palestra Di tipo fuoco Voi siete Hop e Chris I due sfide A palestra Sponsorizzati Da Dandel Giusto? Sto Approfittando Di ogni minuto Per prepararmi E fare scintilla Nella sfida Contro di voi Io ho l'op Con poco Come tipo fuoco E quelli d'acqua Che si incontrano Qui nella miniera Due Sono perfetti Per allenarli Comunque ragazzi Ci sta facendo Tardi Proseguite dritti Dopo essere usciti Dalla miniera E giugnete Stempton Una volta lì Fatemi una bella Dormita in hotel Vi voglio belli Scoppiettanti Con ci suderemo Su A casa anche tu Carcol Ti accompagno io Domani Bruceremo Più del sole Sì Sì Da Da Allora Questo capo Restra Mi è piaciuto E mi piace La sua divisa Quindi probabilmente Quando la vincerò Probabilmente La indosserò Con la divisa Perché è veramente Bella Mi sento già Per fermarsi E bounden It Per la notte Ok Quel carcol Di prima Dove essere Lì per Un incarico Del pokejob Tu sai Cosa è il pokejob No? Certo che lo so Anzi Doviamo andare a vedere Un attimino A che punto Sono quei fuoco Ma non è vero Ovvio Tu sei sempre tutto Stempton E due passi Sono a pezzi Andiamo di posarci Un po' Al bounden hill Domani Sarà un giorno importante Ma ci pensi Sfideremo Kabu Il capo Può essere tipo fuoco E io non ho Un pokemon D'acqua Ragazzi Non sto più Nella pelle E' vero Io non ho Un pokemon D'acqua Ragazzi Mi provo A fermare Un attimino Qui a vedere Che pokemon D'acqua Potrei trovare Ci vediamo Tra poco Ok ragazzi Ci sono stati I cambi Nella mia squadra Che ho dovuto fare E Ovviamente Li scoprirete Direttamente Dal capo palestra Quindi Andiamo avanti E vediamo Un pochettino Cosa Cambiato Nella squadra Ho Diciamo Catturato Un pokemon Che Sinceramente Proprio Parlando Papale Papale Mi servirà Giusto Giusto Per affrontare Il capo palestra Il capo palestra Non credo Che sia il mio Pokemon Definitivo Però Vabbè E' ovvio Che abbia preso Un pokemon D'acqua E lo vedrete Direttamente Domani Cioè Adesso Adesso Perché vado 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 Per l'hotel Mi andrò Sicuramente A riposare E una volta Mi sarò riposato Ah ok Quanto pare Non ci riposiamo ancora Tu sei Chris Giusto Vedo che ti alleni Fino a tardi Già che ci siamo Ci stai una piccola Sfida Io e te Vuoi vedere Se siamo pronti Per la prossima Lotta Della sfida Delle palestre Ok Io direi Di sì Questo sì Che è Spirito combattivo Ok Fate la sfida Di Mary Cioè Lei c'è Il gruppo Di fanatici Dietro Ok ragazzi Affrontiamo Mary Affrontiamo Mary Allora Mi dispiace Perché Francamente Mi sei di ragazza Tenerissima Ma Non credo Che vincerai Ok Spennata E giù Croco E giù Come avete visto Durante il cambio Non vi ho fatto vedere Della squadra Sto evitando apposta Di farvela vedere Perché il pokemon Che ho scelto Lo vedete direttamente In battaglia Contro ovviamente Il capopalestra Ripeto Non penso che sarà Il mio pokemon Definitivo E sì Ho dovuto Lasciare Due Audito Infatti Non lo vedete Più Quando Mi insegna Perché Giustamente Due tipi Fuoco Non potevo Tenerli Siccome Ci tengo ad Allenare Il nuovo Starter Preferisco Tenere lo starter Wow Wow Sto mortecco C'ha veramente Un morso potente E giù Mortecco Ok Mary Non voglio Sfruttitarti Ma mi sa che Hai giunto La ultima parola Però Ancora tutto Può succedere Magari Mi bottiggio Comunque Il mio starter Botta in testa Toglie Ma il mio starter Resiste Ma No Mi spiace Sei riuscito A sconfiggermi Però Ci sai fare Meglio Ander a dormire Adesso Domani Voglio Essere In forma Ti consiglio Di fare Lo stesso Ok Sicuramente È stata Una lotta Più Entusiasmante Di affrontare Hop Quello sicuro Ok La mattina Dopo Buongiorno Chris Buongiorno Mary Domico Giapponito Per la sfida Non siamo Amici E Fidati Non voglio Saperne Niente Di voi Proprio Niente Allora Sì No Non mi interessa Le sue strategie Comunque Grazie per la carta Di cavo Perché Francamente Nella collezione La volevo Non è male Ok Abbiamo due Antiscottatura Con una squadra Come la tua Sono sicura Che ridurrai In cenere Cabo L'uomo Di fuoco Lo stadio Stemmington È proprio Qui accanto Su Vai A prendere Quella medaglia Pico Pico Ok Ragazzi Andiamo A recuperarci La medaglia Ragazzi Tutto è pronto Per ricevere La medaglia Ma ovviamente Che abbiamo Sempre in mezzo Tu sei esattamente Come il tuo Vuru Sempre in mezzo Ai Vuri Ne via un po' Sono riuscito A conquistare La medaglia Fuoco E non me ne frega Proprio niente È un avversario Rovente Persino Il Pokémon Piuttosto Ha rischiato Di finire Alto stato Ma sono sicuro Che Ce la farai Anche tu Sì Non ti preoccupare Quello è ovvio Ok Perché sei sempre qua Perché sei sempre qua Ok Bene Procediamo subito Con le formalità Allora Sì Per favore Andiamo Prima Spida che abbiamo inizio Devi chiederti Di indossare la divisa Arrivo Ed eccolo Che entra in campo Il numero 25 Ok Vedremo la vera forza Non vedo l'ora Ok Ci siamo ragazzi Questa è la prova Di tipo fuoco Chissà cosa comprenderà Ok La missione della palestra fuoco Consiste nel catturare Pokémon E fare Un cento di punti Nell'erba alta Ci sono dei Pokémon Se sconfiggi uno Guadagni un punto Mentre catturarlo Te ne frutterà due Ottieni cinque punti E superare la missione Vada bene però Che non sarai mai In gara da solo Dovrai competere Con altri allenatori In sostanza Per assicurarti i punti Dovrai considerare bene Cosa fare Tenendo conto Di quello che fanno Gli altri concorrenti Inizio la missione Ok Get ready For the next battle Cominciamo Ok Quindi Per assicurare C'è la vittoria Sarebbe buono Che ricatturassimo tutti E guarda caso Io c'ho proprio Una bella Veloc Ball Che fa il caso mio Entra veloce Uh ragazzi Chiusura istantanea Ora Sì E due punti Assicurati Ragazzi Ok Proviamo un bel build Altri due punti Assicurati Ancora un punto E abbiamo un punto Ragazzi Procuratevi Del veloce Servono Servono sempre Ok ragazzi Ultimo punto Oh che bello Litwick Così Facciamo anche Pokeder Prese E con Litwick Missione Compiuta Ce l'abbiamo fatta Ok Che presentazione rovente Hai superato Le missioni di Kabu In grande stile Grazie alle Veloc Ball Ragazzi Grazie alle Veloc Ball Forza Aspita Vai e fatti onore Andiamo E sempre Te giusti Capetti Davvero Ragazzi il momento E' veramente importante Questa medaglia Deve sancire per forza Qualcosa Un inizio di qualcosa Perché come vedete E' una presentazione Molto diversa Dal solito Quindi sicuramente Stiamo per affrontare Veramente Un capopalestra Come si deve Sei qui perché Sei riuscito A conquistare La medaglia acqua E quella erba Bene Ti faccio i miei complimenti Azzurra e Ialo Sono degli ossiduri Gli allenatori E i pokemon Devono impegnare Questo significa Che non sei Il solo Che si sta Allenando duramente Ciò che fa La differenza Però E' le capacità Di dare il massimo Nel momento decisivo Si inizia ragazzi E si inizia Ok Ci lancia subito Un knife death Non so di che livello Nightless Apriremo Nightless Di livello 25 Ci siamo Ci siamo Ci siamo Andiamo Subito Di pennata Ok Sta resistendo bene Line blu Sta resistendo bene Speriamo di farcela Perché In effettivo Sono molte In difficoltà Ma almeno Il primo pokemon Devo riuscire a farcela Con i miei Quindi Adesso Lo ritiriamo E mandiamo Noi In effettivo In effettivo Al momento C'è E spero Che riesca A fare bene Alla sua parte Ok Continua In effettivo Con poco Fatuo Me ne vuoi bruciare Noi ci andiamo Di arrasoio Di nuovo Adesso andiamo Di attacco Ala Adesso andiamo Adesso andiamo Un po' E' dura E' dura E' veramente dura Questa rocca Al rasoio E speriamo bene Un nuovo attacco rapido Mannaya Niente ragazzi E' andato giù E allora Mandiamo Rabot E vediamo Di sconfiggere Con un bel doppio calcio E' andato giù Ok Rabot ragazzi Mi manda Arcanine Farò Molta fatica Mi toglio Farò Molta 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 Fatica Mi mando Vediamo Un pochettino Che possiamo fare Andiamo Di doppio calcio Ovviamente Aumenta La velocità Dopo Arcanine Ma Lo capisco L'avrei fatto Anche io Quindi Non c'è Che andare Ancora più Veloce Con attacco Rapido Per La velocità La velocità Questa Poi Tornata Questa Seguile Purtroppo è andato giù Non ce l'ha fatta E ora rimandiamo al flame blu Stanco e bruciato Ancora in piedi Andiamo di spennare No 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 Resiste Resiste Dreadrude E il pokemon in questione è Drenvar Ok Kabus comincia a fare sul serio ragazzi Ok ragazzi io ho paura che abbia la giga ma in questo caso Spero vivamente di no Vediamo se questo pokemon d'acqua sarà caverato Anche se lo ammetto ragazzi come vi ho detto non è esattamente un pokemon che sono sicuro che terrò in squadra Anche perchè non mi dice niente E' in giga mazza E' in giga mazza Non è in dynama mazza E' questo come lo butto giù Ok ci proviamo ci proviamo ci proviamo Quasi giù Quasi giù Devo resistere un colpo E poi posso buttarlo giù Resiste Ragazzi attenzione resista Resiste Devo averlo trovato buono alla fine Perché Comunque mi sta dando soddisfazione Ha un buon attacco Mi ha tolto tanto Dai Ce l'abbiamo fatta ragazzi Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Non ci credo ancora Ce l'abbiamo fatta Ok Abbiamo vinto raga Abbiamo vinto contro Kabu Ho fama di essere il primo vero ostacolo Della sfida delle palestre Nonostante questo contro un talento come il tuo La mia esperienza non ha potuto nulla Anch'io ho ancora qualcosa da imparare Devo ammetterlo Ragazzi Ecco a noi La medaglia Fuoco Presto Pensavo che si incostrava di lato Invece no Centro Ora puoi catturare Pokémon fino al livello 35 Grazie al fenomeno Dynamats Le lotte di Pokémon sono diventate parte integrante Della cultura di Gallar Il compito di voi giovani allenatori è farvi carico di questa cultura E dare il massimo Per rinnovarla e migliorarla Costantemente E noi adulti siamo qui per sostenervi in questa impresa Ok Ok Chris Sapevo che tu e i tuoi Pokémon avreste fatto faville Eppure non so perché sono stati in ansia per tutto il tempo Non ti preoccupare zio No problem Ok dimmi Impresa ammirevole Chris Hai conquistato la medaglia erba Acqua e fuoco Che talento Prendi queste M.T. come ricordo della tua impresa Poco fa la tua Speravo più un lanciafiamme O qualcosa di leggermente più potente Oh la divisa la voglio Sì la divisa la volevo proprio Grazie Ok Quindi dobbiamo dirci verso Chuckleburg Con le metaglie che abbiamo ora Affrontare i terribili Pokémon delle terre selvagge Sarà una passeggiata Coraggio Andiamo all'avventura Si fa sempre più emozionante Senza l'ombra di paura E non perdiamo mai la bustola Ok ragazzi Usciamo da questa palestra Con la vittoria in mano Ok Eccoci Ma perché dobbiamo seguire Perché Perché Io non voglio seguirlo Ok Andiamo Chris Andiamo Tanto sono consente a seguire Non mi dire Che succede Un capovestero che viene apposta a salutarci Cabo Hai già capito che sarò io il prossimo campione Modesto come mio fratello Non so se sarai campione Ma sarai un campione di modestà proprio Modesto Identico a tuo fratello Vedo spesso allenatori che gettano la spugna Già prima della terza medaglia Per questo ci tengo ad augurare buona fortuna A chiunque sia riuscito a battermi Grazie Oh che bello Che cosa carina Sono venuto praticamente tutti quanti A salutarci E augurarci buona fortuna Per le prossime medaglie Non sono molti Ispita palestra Che possono vantarsi Di aver tenuto una medaglia da Cabo Per questo abbiamo deciso Di venervi a salutare Meritate il nostro support Già Meritate proprio Un tifo Meritate proprio un po' di tifo Vai vai Forza e coraggio Chris I capi palestra che state per affrontare Sono degli orsi duri Ma con il vostro talento Siamo sicuri che riuscirete a superare ogni istacolo Dovete credere nei vostri pokemon Fino alla fine Sono commosso Grazie mille Non ci arrenderemo mai Vi prometto che Faremo di tutto Per arrivare fino in fondo Ok dai Prossima tappa ovviamente FUNKELBURG Andiamo Andiamo Ok Tra un po' ragazzi Sto per qui l'episodio Allora io ragazzi Tra un po' Sto per qui l'episodio Eccoci di ritorno Nelle terre selvagge Super saiyan E' un super saiyan Si sta per trasformare il suo ragazzo Si Sei più forte di prima Va bene E' da quella parte Perfetto E noi ovviamente Andremo da quella parte Potremo anche attraversare Volendo Abbiamo un po' di medaglie E possiamo approfittarne Per catturare un po' di pokemon Più forti Cosa che sicuramente farò Ho deciso Catturare un pokemon Incredibilmente potente Certo Ti consiglio di non strafare Ha arrivato anche Belli capelli Ragazzi Qua la storia si fa lunga Puff Il campione deve avere Qualche rotella fuori posto Se ha sponsorizzato voi due Prendiamo esempio Teop Sei sicuri di sapere Come si lanciano a pokeball? Non glielo chiedere Che adesso comincia a farti Tutta la sua storia Su Sui discorsi Come si lanciano le bolle Eh Forse non ti sei reso conto Che mio fratello È il campione più grande che c'è Sì ho capito Mostra rispetto È tuo fratello il campione Non tu Come se non avesse perso Misuralmente Contro Chris Nella miniera 2 Questo è vero Ti ricordo che io e lui Siamo ottimi rivali Per lui io sono un rivale Per me lui non è niente Cioè si vanta di me Si vanta del fratello Si vanta di tutti Io non so cosa dire Sì guarda Non speravo altro Adesso io me ne vado via Senza di te Grazie Ciao Ok ragazzi Io direi che il video Può finire qui Nel prossimo episodio Andremo a Clarkwood Magari vi farò vedere Anche un po' Delle terre selvagge Magari qualche pokemon Che catturo Ma questo Vedremo un po' Perché magari Vorrei che appunto Il gameplay diventasse noioso Se il video vi è piaciuto Come sempre Lasciate un like Iscrivetevi al canale Non dimenticatevi Di condividere Con tutti gli amici E se ovviamente Appunto avete dei consigli Datemeli Che le accetto ben volentieri Sul miglioramento del gameplay O saprete che porti qualcosa in più In questo gameplay Come sempre Da Firewolf Qui è tutto E ci vediamo Ad un prossimo Video I'm gonna love you